L'ex sindacalista della UIL Fabrizio Pasini, condannato a 16 anni per il delitto di Manuela Bailo, la 35enne di nave uccisa il 29 luglio 2018 dal suo amante collega, avrebbe depositato ricorso in corte d'appello contro la condanna per l'omicidio della donna con cui da qualche tempo aveva una relazione. Il gesto, sostiene, non sarebbe stato volontario. Il corpo della donna era stato ritrovato dopo settimane in avanzato stato di decomposizione in una vasca per i liquami di una cascina abbandonata ad Azzanello nel Cremonese mentre Pasini era partito per le vacanze in Sardegna con la famiglia. L'uomo avrebbe colpito l'amante alla testa per stordirla, poi l'avrebbe sgozzata. Al suo ritorno erano scattate le manette. Ora in appello Pasini chiede che il reato venga riqualificato in omicidio preterintenzionale per ottenere uno sconto di pena. Ma oltre al suo ricorso, secondo la stampa bresciana, ci sarebbe anche quello del PM Francesco Carlo Milanesi, secondo cui Manuela era stata eliminata perché il suo amore era diventato troppo ingombrante. Il sostituto procuratore chiederebbe infatti che venga riconosciuta la premeditazione a carico dell'uomo.